amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati eccoci qui siamo in compagnia di giampiero gauna espertissimo orticultore qui in provincia di torino siamo a bollengo per la precisione e siamo in compagnia di decine di zucche oggi si sta così deliziando con questa bellissima playlist che stiamo girando e oggi ci spiegherà qual è la differenza sotto un sale giampiero fra le zucche che si possono mangiare quelle invece sono ornamentali perché vi è proprio una differenza giusto certamente allora tendenzialmente le zucche si dividono in due in due genere zucche del genere moscata e del genere cucurbita maxima che sono le varietà normalmente commestibili e poi ci sono le zucche laginarie che sono zucche con quando il frutto raggiunge la maturazione è immangiabile perché è legnoso e duro queste sono propriamente definite zucche ornamentali perché si utilizzano solo dal punto di vista ornamentale si coltivano perché poi assumono delle forme svariate molto belle che possiamo utilizzare per come forma di arredo sia nel giardino che in casa io tendenzialmente coltivo più le zucche di carattere alimentare a carattere alimentare quindi zucche pregiate dal punto di vista commestibile alimentare ma anche all'interno di questo genere ci sono delle zucche che sono state selezionate principalmente per essere belle e magari meno buone come si chiama questa questa varietà che vediamo di fronte grande bianca e la polar bear è una varietà di zucche anche commestibile ma sicuramente non buona dal punto di vista alimentare perché è stata selezionata per la sua bellezza per questa buccia bianca in questo caso martellata dalla grandine che l'ha caratterizzata ma non è una di quelle zucche buone si definisce una zucca mediocre e molto bella dal punto di vista estetico ornamentale sicuramente ma in questo caso dal punto di vista commestibile lasciamo perdere quindi noi abbiamo all'interno della famiglia delle zucche commestibili anche delle zucche che sono prettamente ornamentali seppur commestibili quindi e invece quelle proprio solo ornamentali ci puoi nominare qualche varietà solo ornamentali il genere la genari e poi i nomi non saprei perché sono secondo me no ok va bene non li so proprio perché ok allora aspetta e qualche altra invece zucca vedo questa per dire verde molto bella molto diversa dalle altre che zucca è questa giampiero allora delle zucche dobbiamo fare una considerazione importante le zucche sono tutte belle sia quelle ornamentali che quelle mangiarecce perché hanno delle forme insolite hanno dei colori veramente straordinari quindi ogni zucca di per sé è ornamentale poi alcune sono anche buone quindi io scelgo come coltivazione quelle buone da mangiare quelle di alta qualità e qui possiamo vedere queste zucche questa che mi appena domandato è una marina di chioggia una marina di chioggia presenta questa buccia bugnata con questi bitorzoli in rilievo è una zucca pasta soda molto buona farinosa una delle zucche pregiate italiane conosciuta in tutto il mondo è una zucca di pezzatura medio medio grande ed è molto interessante dal punto di vista gustativo alla tavola per il palato nelle zucche ornamentali possiamo avere delle varietà che crescono molto quindi si sviluppano parecchio fino a quanto giampiero dipende se si è bravi a coltivarle bisogna essere anche esperti nel coltivare queste zucche giganti che normalmente si vedono ad halloween che superano anche i 500 kg sono zucche che possono raggiungere la dimensione di un bancale essere alte un metro addirittura devono essere spostate poi opportunamente con un forcone con un trattore perché il peso è enorme non si possono maneggiare a mano vengono coltivate proprio man mano che crescono su un bancale apposito perché poi dopo non si possono maneggiare il pistolo le volte grande di 10 cm e la pianta stessa seguita e nutrita lungo tutta la stagione per riuscire a portare questi frutti giganteschi quando io vado ad acquistare la classica bustina giusto per seminare la zucca troverò sicuramente scritto se è ornamentale o no certamente quando noi compriamo le bustine abbiamo un'indicazione normalmente nella parte superiore della bustina dove ci dice zucca ornamentale oppure zucca e sotto troviamo il nome il nome specifico che in genere riguarda le zucche mangiarecce io no 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 Grazie a tutti.